Quindi è un gioco nuovo, è un nuovo gioco Eh sì Allora è uscito Luxoflux Ma c'era però le casse proprio dedicate Luxoflux l'ho vista solo su Dreamcast Oh, c'è anche una storia Ma non mi ricordi che era un gioco di Dreamcast Come vuoi, c'è anche la Superstation Superstation è una cosa? È un esclusivo Perché c'è un trance sul camion? C'è un trance sul camion Luxoflux sull'uppatore Eh? Dissario su Missions Il camion si Sì Ma Luxoflux sta solo qua Sì Ma è tipo Twisted Beta Sì 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 Per non violare i govilai Ah, devi cambiare qualcosa Sì 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 la seconda offesa il girante 82 esclusiva anche molti player c'è anche molti per amiche unisciti arizoare in roma il guerriero non c'è gelatare io prendo il guerriero i nostri tra i 2 e il 5 ma Fabio dice bomberman bomberman si era dopo mettiamo bomberman se è bomberman ah finalmente il gioco ecco poi l'obiettivo faccio il culo sicuramente con A guardate il treno ok pazzo triangolo pedrovi ok tu sono diamo a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.